Sai come si chiama questo dipinto e chi l'ha dipinto? Il dipinto si chiama Kedibri, ed è un dipinto ad olio del 1907 circa di Henry Rousseau. È nella collezione del Museo Artizon. Rousseau era affascinato dalla moderna civiltà meccanica. Il dirigibile, l'aeroplano, la mongolfiera, la torre Eiffel, tali icone della modernità compaiono spesso nei suoi quadri. In questo esempio, il dirigibile che fluttua nel cielo in alto a destra è probabilmente la patrie. Il primo dirigibile ordinato dall'esercito francese, che volò nei cieli di Parigi nel 1901. L'ambientazione di questo dipinto, il Kedibri, era una zona industriale a Monte della Senna, alla periferia di Parigi. Una grande ciminiera appare vicino al bordo destro del dipinto. Le persone, vestite con i loro abiti migliori, con bastoni e ombrelli intonati.